Clash Royale Quindi mi mancava bene o male una o due vittorie e sarei arrivato alle 4000 coppe Quindi visto che siamo vicini al nostro obiettivo voglio portarvi giusto un video giusto così sempre per non dimenticarci di Clash Royale La cosa bella è che il mazzo non è assolutamente cambiato e non ho assolutamente potenziato nessuna carta La carta che porterò su, che potenzierò sarà la sfera infuocata Perché è quella che sto cercando di portare su almeno per farla diventare di livello 9 E poi cosa molto molto importante porterò su i barbari normali a livello 12 Quindi credo che facendo due belle partite e vincendole entrambe potremmo arrivare al nostro obiettivo Sempre se ci dà abbastanza coppe Comunque becchiamo sempre i livelli 11 è una cosa pazzesca Non si può proprio giocare più a questo livello perché devo assolutamente cercare di arrivare a livello 11 anche io Perché la differenza di punti vita non sembra ma è veramente veramente grossa Allora in questo caso devo giocarmela in questo modo Anche se butterò un bel po' di tempo ma dovrei riuscire a fare dei bei danni alla torre Diciamo che la sua valchiria è fastidiosa ma buttando tutto il nostro elisir ci difendiamo alla grande Abbiamo fatto un bel po' di danni ma il vero problema è il nostro elisir Lui gioca il mago qui che non ricordo mai il nome Stregone elettrico come si chiama lui ed è abbastanza antipatico Quindi siamo in vantaggio ma ricordiamoci che lui comunque ha parecchia vita in più per quanto riguarda le torri Quindi dobbiamo fare veramente molta molta attenzione Io metterei una principessa da questo lato e ho sbagliato perché doveva andare dal lato opposto E giocherei questi barbari e subito un minatore sul moschettiere perché se no ci fa veramente dei danni assurdi Palla di fuoco da parte sua ottima veramente ottima Lui ci farà fuori tutto praticamente E subiremo un sacco di danni a causa di quei golem che sono fortissimi ragazzi Specialmente a livello 5 sono veramente veramente forti Allora io subisco questi danni per ricaricare un poco di elisir Lui ha la fornace e noi lo sappiamo infatti l'ha appena giocata Ci giochiamo il gigante royal Gli facciamo beccare qualche danno E vediamo lui appunto che cosa ci gioca Non è andata per niente bene perché abbiamo giocato le carte in momenti un po' morti per noi ovviamente E quindi gli abbiamo dato modo di difendersi e di buttarci via l'elisir che avevamo accumulato Per fortuna non subiamo dei danni enormi Ma lui comunque ha la sfera infuocata e l'attiverà subito lo sapevo Ma sarebbe stato stupido da parte sua non farlo Gli spiriterli che non mi aspettavo mi buttano via metà dei miei sgherri Una sfera infuocata per levare il suo mago E noi purtroppo abbiamo comunque perso una torre E abbiamo veramente pochissimo tempo a disposizione Per cercare di fare qualcosa di buono Non credo ragazzi che riuscirò mai e dico mai a buttare giù la sua torre Anche perché rimarrà comunque a poco Infatti se era un livello 10 le cose sarebbero potute andare molto diversamente Quindi vedete quanto è importante avere un livello su o un livello giù di torre A noi manca più o meno un 8000 di punti esperienza Il problema è che non è assolutamente semplice fare questa esperienza Quando uno non shop o comunque non gioca assiduamente tutti i santi giorni Quindi ovviamente bene ovviamente ragazzi abbiamo beccato addirittura un livello 12 Mi ha praticamente rotto la combo che avevo fatto proprio easy Perché giustamente ha giocato nel momento giusto la fornace Anche se è stato sicuramente culo però comunque gli è andata bene E praticamente questo ragazzo le sue torri dovrebbero avere all'incirca Se sono 3 e 3 più di 6 700 punti vita Per 2 cioè praticamente ci devasta solo con i punti vita Allora così facendo subirò davvero tanto Ma comunque ok sbagliato ancora a mettere gli sgherri Lo devo dire c'è fatto una cagata assurda E le sue carte onestamente non sono altissime Quindi non capisco come sia possibile che questo ragazzo giochi in questa lega Lo spiritello o la principessa l'aveva preso l'abbiamo visto tutti Comunque non so perché gioca ancora in questa lega Se comunque è di livello 12 E com'è possibile che abbia ancora le carte così basse Non so avranno qualche metodo per salire più in fretta con l'esperienza Ma a me sembra molto molto strano Allora spero che lui giochi gli scheletrini esatto Perché abbiamo una buona combo da fargli Non so quanti danni riusciamo a buttare giù a quella torre Ma comunque qualcosa la riusciamo a fare 1500 punti rimanenti Noi purtroppo 300 Quindi non possiamo assolutamente equiparare le due cose Ma possiamo cercare di difenderci e di attaccare nello stesso tempo Quindi come difesa è andata bene Io farei un minatore qui sulla fornace E mi beccherei uno spiritello esatto Che non ci uccide ma comunque ci lascia il segno Il suo domatore dovrebbe riuscire a darmi un colpo Infatti ce la fa Però buona la sua palla di fuoco Che noi possiamo usare al nostro vantaggio Per iniziare il contraattacco Una scarica sugli sgherri perché potrebbero dare davvero fastidio Purtroppo uno spiritello è andato a suo vantaggio in una maniera assurda Non pensavo che potesse tornare indietro e fare ciò che ha fatto Ma comunque siamo messi male Abbiamo pochissimo tempo a disposizione Lui invece sta messo veramente bene Per quanto riguarda le carte e tutto il resto Devo assolutamente fare minatore e palla di fuoco Il prima possibile Almeno per recuperare una torre E infatti ce l'abbiamo fatta veramente al limite Al limite del tempo La principessa ha attaccato bene Io ho giocato per sbaglio i miei barbari Palla di fuoco da parte sua al centro di tutto Che forse, dico forse è stato un miss click Non so Avrà miss clickato Una scarica da parte nostra buona Un minatore sulla destra E qui l'abbiamo preso a quel servizio Perché non mi aspettavo gli spiritelli E quindi subiremo praticamente tutto 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 Palla di fuoco al centro E abbiamo perso ragazzi Comunque ce la siamo giocata bene Più nel late che in early game Perché all'inizio abbiamo fatto un po' di cavolate Comunque lui era di livello 12 Quindi ho dovuto buttare un po' più di carte Sulla sinistra per fare qualcosina E quindi purtroppo due partite perse Non siamo riusciti a salire Ma purtroppo l'avete visto anche voi Io sono un livello 10 con questo deck Con queste carte E comunque si trova a questa lega bene o male Sempre a livello 11 Questa volta è stato un ancaso trovare un livello 12 E praticamente il minimo che posso trovare appunto è un livello 10 Come me Quindi ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto Anche se non ve li porto fissi Ma una volta ogni tanto Spero che questo video vi sia piaciuto E che questi video vi piacciano Io come al solito vi ringrazio Mi raccomando iscrivetevi Commentate Condividete questo video Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E noi ci vediamo con il prossimo Bella raga Ciao a tutti Ciao a tutti